Facciamo la pasta con peperoni e pomaggio. Ora mettiamo un po' di olio. Proprio buco, eh? Vicky! No, basta! No, basta! No, aperta! Questo qua, metti tu. Io metto questo. Inchia! Aperta! 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 Allora metto! Io! Quando la cipolla è pronta mettete il peperoni. Mi metto il peperoni! Le metto tu! Sì! Ora togliamo l'aglio. Quando il peperoni ne mettete qua dentro, così dopo li brunate. Ora mettiamo prima questo, ancora, ancora, io ho la mia ciotola, ho la mia ciotola, cosa sembrano? Mon te due? Oh no? No, tu no! Devi tenerlo, sennò kappa! Panme no! Panme no! Pienono! Ora mettiamo la coute, e scendiamo il tenuto della padella. Quando la pasta è cotta mettete la distruggo, io devo farlo, adesso andiamo, vai, donna, a taglio, com'è, meccolate bene ora, mi piace, vai, un coniglio, ora la mettiamo nel prato, ora mettete una fogliolina di basilico, ma teni, questa è la perla, va, quanto è che, va, quanto è che, va, quanto è che, va, Grazie a tutti.